I sannacchiudere tarantini sono un dolce tipico pugliese che prepariamo soprattutto il periodo di dicembre, molto simile agli strufoli. Ci sono tantissime ricette dei sannacchiudere, per esempio mia nonna pugliese scaldava 200 g di olio extravergine di oliva con le bucce d'arancia, poi le lasciava raffreddare l'olio ed eliminava le bucce. Su una spianatoia disponeva un chilo di farina con 100 g di zucchero a fontana e impastava con l'olio aromatizzato all'arancia e vino bianco quanto la farina riceveva. La mia versione invece prevede l'uovo e quindi l'aggiunta dell'uovo e io userò un robot da cucina. Se non avete robot formate una fontana su una spianatoia con 250 g di farina, 25 g di zucchero e poi al centro disponete un uovo, 50 g di olio extravergine di oliva e la buccia grattugiata dell'arancia e mescolate con circa 30-40 g di vino bianco. Se avete robot da cucina sarà molto più semplice, inserite soltanto 30 g di vino bianco, 50 g di olio extravergine di oliva e la buccia grattugiata dell'arancia nel Bimbi o nel Monsier Cuisine. Poi impostate 2 minuti, velocità 1 a 50 gradi centigradi. Infine inseriamo 25 g di zucchero con un uovo intero e 250 g di farina a zero. Ora selezioniamo la modalità impastare 2 minuti a velocità 4. Continuiamo a impastare con le mani se necessario e aggiungiamo della farina. Formiamo dei cordoncini che andremo poi a tagliare in pezzettini. In questo caso otterremo gli strufoli. I sannacchiudere invece sono dei piccoli gnocchetti. Per realizzarli mi aiuterò con il dorso di un cucchiaino e una grattugia. Lasciamo a riposo almeno 15 minuti prima di friggere. inseriamo in un tegame l'olio di semi di arachide e portiamo a circa 180 gradi. A questo punto inseriamo un po' alla volta i sanni a chiudere. Cuoceranno in pochissimo tempo. Quando sono belli dorati, scoliamo bene dall'olio e adagiamo su un piatto con carta assorbente. io ho scaldato semplicemente il miele, però se volete oltre a scaldare il miele potete aggiungere un pochino d'acqua. Cospargiamo i sannacchiudere di miele e diamo una bella mescolata. Infine aggiungiamo gli zuccherini. Se questa ricetta ti è piaciuta lascia il tuo like e iscriviti al canale.